Cari amici di QSVS, ben ritrovati sul nostro canale YouTube, sempre aggiornato, sempre attivo e sempre in diretta, live ogni giorno con QSV Web, ma ovviamente questo è l'appuntamento con l'editoriale che io intitolerei così, tra i due litiganti, virgola il terzo perché, punto di domanda, e vengo all'attualità, alle vicende di questi giorni, a guardie ladri, alle dichiarazioni di Massimiliano Allegri, alle risposte inevitabili, attese di Simone Inzaghi, che devo dire è stato molto bravo, secondo me, a stemperare i toni e a non rispondere alla frecciata con un'altra frecciata, non rispondere all'allusione con un'altra allusione, però ha risposto così Simone Inzaghi, io credo che il Milan debba essere considerato nella corsa a scudetto perché, insomma, non le sto leggendo le dichiarazioni, ma il senso è questo, perché comunque lì ha fatto un bel filotto, in campionato, è vero, intervallato soltanto dall'eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta e quindi il Milan va considerato nella corsa a scudetto, è qui che sorge il mio perché, perché tra i due litiganti con il terzo che non può godere dal nostro punto di vista, o comunque che non può essere considerato uno di quelli che possono godere, deve essere tirato in mezzo e quindi qui deve stare la bravura del Milan dal mio punto di vista, di farsi i fatti propri, di non pensare allo scudetto, è stato molto bravo Stefano Pioli dopo la partita contro la Roma a dire per favore, lo ha usato come termine il per favore non solo per sottolineare bene quello che stava chiedendo, ma anche per mantenere la sua filosofia, i suoi toni sempre molto pacati, sempre molto in linea con quello che deve essere lo spirito dello sport e del calcio, quindi per favore non considerateci per la corsa a scudetto, e io credo che ci siano delle divergenze perché qualcuno fa notare, ma vi ricordate all'intervallo del famoso derby se è girato Giroud a quanto era il Milan di potenziale di stacco? A quell'intervallo il Milan era a meno 7, potenzialmente a meno 10 perché c'era già il famoso asterisco di Bologna-Inter, poi quella partita finì con il Milan a meno 4 con un potenziale meno 7 dovuto all'asterisco e poi sappiamo tutti come è andata a finire a maggio con la festa di Reggio Emilia, ma qui la situazione è diversa, qui intanto le competitor sono due, qui intanto la corsa la devi fare su due, qui intanto la corsa la devi fare anche tu su una squadra che non, come il Milan all'epoca, parteciperà alle coppe europee, e viceversa il Milan rispetto a quell'anno lì parteciperà alle coppe europee, e lo dovrà fare da protagonista perché è questo che gli viene chiesto dopo essere uscita dalla corsa Scudetto a punto e dopo essere uscita da una Coppa Italia che con l'eliminazione dell'Inter ti avrebbe portato con tutti i favori del pronostico almeno a giocarti la Roma, invece sei finito a uscire a San Siro contro l'Atalanta. Quindi cosa e come leggo la classifica del Milan in questo momento? Intanto leggo un meno 7 dalla Juventus che è la seconda, un meno 9 dall'Inter che è la prima, ci leggo quindi una corsa nei confronti di due squadre che tutte e due sanno bene cosa devono fare e come possono stare lì in alto, e meritatamente sono lì in alto, a giocarsela, a strattonarsi, a punzecchiarsi, a giocare sull'orlo degli equilibri anche mentali o soprattutto mentali. Ma quello che leggo io nella classifica del Milan più che questa distanza dalle prime è la distanza dalla quarta e dalla quinta e tengo in considerazione anche la quinta perché il ranking UEFA potrebbe beneficiarci come italiani e come calcio italiano del quinto posto per la nuova Champions League. E quindi il più 8 dalla Fiorentina, il più 9 dall'Atalanta, non dal Bologna, chiedo scusa che nel frattempo è sceso, ma dall'Atalanta, sono lo scudetto del momento del Milan. Perché dico questo? Perché sarà un bene assoluto e assolutamente per il Milan arrivare a iniziare il percorso in Europa League con una situazione di classifica molto tranquilla dal punto di vista del piazzamento alla prossima Champions League. Perché dico questo? Perché negli ultimi anni abbiamo visto le squadre andare avanti in Europa League o in Conference League, la Fiorentina dell'anno scorso e la Roma dell'anno scorso in particolar modo, ma non solo. Abbiamo visto la Lazio che è arrivata a seconda quasi autoeliminandosi dalle competizioni europee. Insomma, abbiamo visto la stessa Inter, lo scorso anno perde 12 partite in campionato ma arriva in finale di Champions League. Abbiamo visto insomma che le nostre fanno fatica, o comunque fanno molta più fatica rispetto alle inglesi, per fare un esempio, a tenere l'equilibrio e tenere il doppio confronto, sia in termini di tensione, sia in termini mentali, sia in termini di forza fisica. E quindi il Milan che dovrà fare un grande cammino in Europa League per forza di cose rischia di perdere qualcosa in campionato. Ecco, il Milan non può permettersi di arrivare a iniziare l'Europa League col pensiero e la paura di perdere qualcosa in campionato. E quindi tenere questo distacco, tenere questo margine non da chi sta davanti, ma da chi sta dietro, è la cosa più importante che sta facendo il Milan del suo scudetto, è lo scudettino del Milan, blindare la posizione in uno dei primi 4 posti, o uno dei primi 5 posti, ma al momento uno dei primi 4 ti dà la certezza di esserci l'anno prossimo. E quindi è questo che deve fare il Milan, è questo il pensiero che deve avere il Milan, con un occhio al mercato in questo momento, non illudetevi e non illudiamoci sulla questione buongiorno, che è un grande giocatore che tra l'altro qualche settimana fa, qualche giorno fa avevo avuto il piacere di incontrare in occasione della presentazione dell'album dei calciatori panini e ancora non erano così forti le voci sul Milan, tant'è che non è stato argomento del giorno. Ma insomma, buongiorno che sarebbe un ottimo acquisto, ma attenzione perché con Cairo è difficile trattare, a giugno, con 3 mesi di finestra di mercato, immaginiamoci a metà gennaio con 10 giorni di mercato poi da sviluppare. Detto questo, buongiorno che è comunque un elemento che al Milan piace, su cui il Milan lavorerà, vedremo se non sarà buongiorno chi sarà o se il Milan preferirà adattare Teo Hernandez per i prossimi mesi eventualmente e non andare su un giocatore tanto per, che è sempre stato un po' il modus operandi del Milan, vi ricorderete nell'anno dello scudetto sempre in difesa, il Milan perde Chier al primo dicembre, il Milan arriva a gennaio, dice faremo un difensore, compriamo un difensore, ci serve un difensore, poi non trova l'alchimia giusta sul mercato tra giocatori disponibili, tra spese da fare, eccetera, eccetera, e dice sapete che c'è? Valorizziamo Calulu, oggi non è un Calulu da valorizzare in Rosa, forse sì, Simic può essere questo, però può svilupparsi la stessa ipotesi tra campo e mercato e poi ci sono ovviamente le questioni che riguardano gli infortuni, rientri, il fatto che il Milan stia pensando alla pazza idea buongiorno ci fa capire che Ciao Tomori e Calulu ne avranno ancora per un po', ma credo comunque che la miglior difesa per il Milan sia tornare ad essere una squadra unita, compatta, una squadra se vogliamo un po' più attenta, un po' più accorta, sia calcisticamente che mentalmente, cosa che abbiamo visto contro la Roma è cosa che se continueremo a vedere dal punto di vista di questa classifica che vi parlavo, guardando chi sta dietro e non chi sta davanti, può essere sicuramente un qualcosa di molto, molto, molto positivo.